Si è appena chiusa la conferenza che chiude by design il primo tratto di questo importante percorso. Siamo con il presidente di CSM Toscana, allora oggi a Siena, quindi nella sede di Confindustria, si chiude questo primo tratto di un percorso importante, di una grande sfida. Da qui siamo partiti un po' di tempo fa, qui siamo a concludere e speriamo che questo sia un momento che poi ci consentirà di valutare tutti insieme, con Regione, con ICE, con il Ministero, la possibilità di portare avanti il progetto e come abbiamo detto i risultati sono molto interessanti e vedremo cosa ci riserva al futuro, ma noi speriamo di poter continuare il progetto. Siamo con il dottor Marras, assessore della regione toscana, le attività produttive. Oggi si celebra il design, si celebra quindi il Made in Italy, il ben fatto che parte della nostra regione. Beh sì, si celebra anche la chiusura di un progetto importante che ha sostenuto questo pezzo di Made in Italy che è toscano, con lo stile toscano e un progetto collettivo al quale non eravamo più abituati nemmeno noi in regione ma abbiamo voluto sostenere proprio perché proponeva due elementi essenziali. Il primo, l'investimento in un momento difficile come quello della piena pandemia all'internazionalizzazione. Noi sappiamo che la nostra è una regione invocata all'export e che sta crescendo proprio grazie all'export e che dobbiamo sostenerla, questa vocazione, in tutti i modi e quindi anche proseguire in questa direzione avrà sicuramente senso. Il secondo elemento è che anche obbligati dal contesto è stato un progetto che ha fortemente investito sulla digitalizzazione, su una proposta cioè di sostenere anche il canale online delle vendite. Noi sappiamo che l'evoluzione ci darà dei segni molto evidenti, anche già presenti, del fatto che il mercato è un mercato appunto sempre più aperto attraverso anche canali digitali e le nostre imprese bisogna che si attrezzino e il fatto che le imprese del design, dell'arredo della Toscana lo abbiano già sperimentato sicuramente è una premessa importante. Da uno sguardo regionale a uno sguardo nazionale con la dottoressa Fontana che è stata presente da sempre in tutto questo percorso che ha fatto tante tappe, ricordiamo Firenze e adesso chiudiamo il cerchio su Siena. Come è andata questa esperienza e l'importanza di un progetto del genere, dottoressa? L'esperienza mi sembra positiva proprio dal fatto che le aziende ci hanno seguito per tutti e sei gli incoming e ci stanno chiedendo di andare oltre. Diciamo si colloca all'interno di un ventaglio di iniziative che noi proponiamo sia in Italia appunto con l'invito di delegati stranieri nell'ambito del design, sono architetti, buyers, distributori ma stiamo lavorando anche con influencer, giornalisti eccetera proprio per promuovere il made in Italy nel mondo e all'estero con partecipazione a collettive, eventi di promozione, il design day che ogni anno è più vasto e copre più mercati. La nostra sfida è quella di proporre nuovi mercati perché le aziende spesso ci chiedono quelli maturi di cui hanno già contatti e su cui sono un po' più a loro agio. Noi alziamo un pochino l'asticella e cerchiamo di proporre nuovi mercati e all'inizio vedo che le aziende sono forse un po' tipo dubanti, è un mercato difficile e invece se riescono comunque ad avere il contatto giusto c'è molto da fare, tanti mercati che si stanno aprendo anche insomma in seguito ai recenti eventi che hanno chiuso i mercati più importanti insomma senza fare il nome ma abbiamo visto problemi anche in Cina che ancora non è completamente aperta. Diciamo come sempre le crisi poi portano a nuove opportunità, è stato molto, mi sembra molto interessante anche l'incame che abbiamo fatto dall'Africa, abbiamo coinvolto una decina di paesi e insomma mi sembra che le aziende si stiano piano piano anche abituando a questo ampliamento di orizzonti e questo ci fa piacere.